Alla fine è successo. Quello che state vedendo è un video registrato con Lumix S5-2X con la mostruosa potenza di fuoco di un 4K 422 10 bit V-Log in qualità ProRes. All intraframes ovviamente sto utilizzando la porzione APS-C del mio sensore perché mi dà un rapporto migliore con la lente che sto utilizzando in questo momento per quello che è il mio studio che in effetti è pensato per un sensore APS-C. Stiamo girando a 24 fotogrammi al secondo True 24 quindi il vero formato cinematografico e quella che state vedendo in questo momento è la effettiva capacità di questa bellissima videocamera che mi è stata mandata in prova dal team di Panasonic. Mettete un like a questo video per ringraziare il team di Panasonic per l'occasione che ci hanno offerto così che possano essercene di nuove. Ciao a tutti amici bentornati sul mio canale. Io sono Cesare mi occupo di fotografia ma oggi vi parlo un pochino anche di video perché quella che stiamo testando è una bellissima fotocamera ma è prevalentemente indirizzata al videomaker e quello che stiamo facendo stasera lo dimostra perché questo è un formato video che io non ho mai sperimentato in vita mia non con questa potenza di fuoco tutta insieme quantomeno. Prima di cominciare vi ricordo subito di iscrivervi al mio canale perché vedo dalle statistiche che tantissimi di voi che guardate i miei contenuti magari ne guardate anche più di uno però non siete iscritti al canale questo è un peccato sia per voi sia per me quindi io vi chiedo un piccolo sforzo con i vostri pollici vedrete che non ve ne pentirete. Bene siamo qui di nuovo a fare un video dedicato alla Lumix S5 2X in questo video andrò a farvi vedere come si fa a registrare nei formati più progrediti questo è uno dei formati più progrediti sicuramente ce ne sono anche degli altri che sono possibili solamente tramite l'utilizzo di una memoria esterna una memoria a stato solido esterna vi farò vedere come si collega alla macchina vi farò vedere come si imposta e vi farò vedere come si portano a casa le nostre riprese in maniera rapida facile e veloce ovviamente sono cose da gestire con molta parsimonia perché una ripresa come questa che state vedendo è devastantemente pesante si fa una fatica incredibile a lavorare post produrre e soprattutto esportare e anche immagazzinare un file di questo tipo perché è ricchissimo di informazioni è molto pesante per il fatto che è all intraframes quindi ogni frame viene registrato separatamente quindi non ha la compressione ipb o cose del genere tutti i frame sono registrati separatamente per il fatto che stiamo utilizzando il prores quindi abbiamo un file super mega gigante comunque nativamente un 4k in più non contenti stiamo anche girando in vlog che è il formato log di panasonic che abbiamo a disposizione su questa macchina per cui questo è il massimo del massimo che potevamo fare su una macchina come questa pur rimanendo nell'ambito del 4k perché questa macchina ha anche il 5.8k e anche il 6k ma sono formati che non mi interessa così tanto farvi vedere perché tanto io faccio la maggior parte delle mie riprese in 4k altre riprese che seguiranno adesso in questo video saranno in 4k e quindi alla fine esporterò in 4k quindi farvi vedere un 6k in questa sede non ha molto senso fatemi sapere nei commenti se volete vedere dei filmati fatti con il 6k perché se riesco se faccio in tempo potrei farvi delle riprese in 6k ve le carico così in modo grezzo da qualche parte magari su un video fuori catalogo e ve lo linko in maniera tale che possiate andare a vederlo ma lo faccio solo se in tanti mi dite che vi interessa perché è un lavoro abbastanza pesante acquistare dietro molto bene ma a questo punto direi che possiamo andare a vedere come ho impostato la macchina per raggiungere questo risultato e vi faccio anche notare che abbiamo dovuto fare l'esposizione per il log che non è sempre facilissimo per fare questa esposizione io mi sono servito unicamente dell'istogramma perché è uno strumento che conosco conosco il mio set so che cosa c'è sul mio set e come dovrebbe essere l'istogramma normalmente sulle mie altre macchine e quindi ho replicato l'esposizione fra l'altro ho utilizzato praticamente gli stessi parametri perché tra la mia macchina che uso abitualmente e questa lumix s52x i parametri sono effettivamente gli stessi quindi da quel punto di vista nessunissimo problema adesso spegniamo le luci e vi faccio vedere come si è arrivati a questo risultato ok eccoci qui con la nostra lumix s52x ovviamente la prima cosa che ci serve per fare una registrazione con un hard disk a stato solido è un hard disk a stato solido ecco qui il nostro sandisk noi andremo a collegare il nostro sandisk alla nostra videocamera con il suo cavetto usbc la porta è questa qui quindi noi andiamo semplicemente a collegarlo in maniera molto semplice andiamo a inserire il suo cavetto una volta fatto questo andiamo a preparare il monitor io accendo la camera tilto il monitor per farvelo vedere aumento la luminosità al massimo ora il nostro ssd è collegato e il nostro display è orientato in modo che lo possiate vedere bene perché adesso andremo dentro nelle opzioni andiamo su questo pannello e vedete che qui abbiamo usb ssd dobbiamo dirgli che vogliamo l'ssd on quindi gli andiamo a dire che vogliamo registrare sulla nostra memoria esterna e lui ci restituisce un errore noi dobbiamo andare a dirgli di formattare la nostra scheda perché non essendo stata formatata in camera non è pronta per ricevere i nostri file a questo punto come potete vedere ci ha messo pochissimo e siamo subito pronti a registrare una quantità immane di dati perché questo è un hard disk da un tera quindi contiene tantissime informazioni a questo punto possiamo andare a impostare i nostri formati video e come potete vedere ce ne sono alcuni come questo che ho selezionato che è possibile registrare solamente sulla ssd esterna non è infatti possibile registrarlo sulla scheda sd interna quindi esistono proprio alcuni formati per cui è indispensabile fare così noi andiamo ovviamente a selezionare anche apple pro res perché vogliamo proprio la massima qualità possibile ci avvisa che peserà tantissimo ma noi non ci facciamo sconvolgere da questa cosa gli diciamo ok dunque ma andiamo a ripassare bene le impostazioni per i nostri video a questo punto come potete vedere abbiamo abilitato la scrittura sulla nostra memoria esterna ecco fatto a questo punto possiamo andare a impostare la nostra qualità video come potete vedere noi andremo a impostare pro res andiamo a impostare a psc perché è la soluzione migliore per il mio studio andiamo a impostare 4k 24 frame al secondo 422 hq 779 mbps quindi è veramente un formato super mega gigante ora la cosa che mi ha fatto perdere un sacco di tempo e che vi voglio quindi segnalare perché è una cosa su cui ho fatto un po di fatica a capire come si fa banalmente è questa io volevo impostare il log ho smanacciato tutto il menu alla ricerca delle impostazioni per il log senza trovarlo dopodiché sono andato a vedermi il manuale per una volta tanto il manuale mi è stato utile e mi sono reso conto che il log è qui vedete quindi bisogna premere il tasto q forse c'è anche un altro modo più semplice io sono novizio su panasonic quindi questa è la mia prima esperienza e ci ho messo un po a trovarlo quindi sono dovuto andare qui e vedete che stando su questo menu e girando la rotella io qui me lo sono trovato in prima posizione ovviamente quindi era su standard sono andato attraverso tutto quanto il menu fino a quando non ho trovato qui superiamo tutti i vari cine eccetera eccetera ed ecco qui vlog una volta che ho trovato questa impostazione l'ho selezionata ed ecco che adesso sono pronto a girare i miei filmati in vlog il log messo a disposizione da casa panasonic devo dire col senno di poi che ritornando sui miei passi sul menu mi rendo conto che qui è selezionato vlog quindi nonostante qui ci sia scritto stile foto adesso ho capito io dovevo andare qui dentro e qui avrei potuto selezionare il mio vlog il malinteso veniva semplicemente dal fatto che io leggendo stile foto non ho pensato che fosse qui dentro e quindi l'ho dovuto cercare da un'altra parte però potevo anche selezionarlo semplicemente da qui devo dire che a questo punto beccarlo da qua mi è sembrato anche più comodo quindi ve lo segnalo che c'è questa doppia possibilità funziona in entrambi i modi e i risultati li abbiamo già visti e commentati insieme bene amici come avete potuto vedere è un procedimento tutto sommato semplice non è niente di complicato ci sono un paio di accortezze da prendere bisogna dire alla macchina che deve andare a cercare la memoria stato solido perché altrimenti continuerebbe a scrivere sulla sd la memoria stato solido non è formattata perché è nuova abbiamo appena comprato oppure viene da un'altra parte magari la stavamo usando come hard disk ci avevamo messo i film di netflix la cancelliamo la formatiamo in macchina così è pronta per registrare questi formati pesanti a questo punto siamo pronti a fare i nostri video e a tenere la nostra scheda di memoria vicina alla macchina perché i cavetti comunque sono corti per essere più comodi possiamo ricorrere a un device di questo tipo questo per esempio spero che riusciate a vederlo bene è un piccolissimo gancetto di small rig che noi possiamo mettere attaccato al nostro rig o anche semplicemente sulla hot shoe della nostra fotocamera lo attacchiamo in questa maniera e questo ci regge il nostro hard disk a stato solido con il cavetto che passa qui in mezzo ce lo tiene collegato così abbiamo tutto al suo posto una cosa che non mi piace per cui semplicemente una piccola notazione personale la cosa che non mi piace di questo sistema è che nel momento in cui io sto utilizzando una memoria ssd non posso utilizzare la macchina collegata alla corrente infatti ci sono dei casi specialmente quando si utilizza una mirrorless in cui per esempio a me personalmente piace molto tenere la macchina attaccata alla corrente noi adesso con la usbc possiamo attaccare la nostra macchina alla corrente e quindi bypassiamo la batteria facciamo funzionare la macchina con la corrente e abbiamo un tempo di registrazione pressoché infinito il che è una cosa che a me dà molta sicurezza perché le batterie delle mirrorless non mi piacciono affatto questo in generale si scaricano troppo in fretta durano troppo poco con quel sistema abbiamo il tempo di registrazione praticamente illimitato ma non possiamo farlo nel momento in cui stiamo registrando su una memoria esterna perché questa macchina come la stragrande maggioranza delle macchine hanno solamente una usbc quindi dobbiamo scegliere o registriamo sulla reddita esterno oppure andiamo di corrente quindi dobbiamo fare per forza questa scelta ovviamente se sappiamo che dovremmo registrare sulla memoria stato solido ci premuniamo ci portiamo più batterie magari perché comunque questi sono formati che la batteria la ciucciano tanto perché sono pesanti occupano tanto spazio e mettono a dura prova anche la batteria bene amici non mi dilungo oltre anche perché vedo il running time sul display della mia fotocamera e visto quanto pesa questo filmato non ho nessuna intenzione di tirarla per le lunghe fatemi sapere in un commento che cosa ne pensate della effettiva qualità video di questa macchina stiamo lavorando ripeto ancora una volta sul 4k prores vlog 24 frame al secondo o l'intra frames se volete vedere il 6k fatemelo sapere in un commento e cercherò di farvi un video apposta solamente su questo a questo punto vi lascio come sempre spazio nei commenti vi ricordo di iscrivervi perché a volte rispondo con degli shorts veloci alle vostre domande più interessanti così non rischiate di perdervele ringraziamo nuovamente panasonic per averci dato la possibilità di testare questa videocamera che neanche a dirlo a me sembra che la qualità sia veramente top da quello che ho potuto sperimentare e vedere a monitor adesso queste riprese saranno le prime riprese in vlog e 4k prores che vedrò sul mio monitor perché non le ho ancora viste nel momento in cui sto girando questo video vado sulla fiducia ma sono sicuro che ne varrà assolutamente la pena fatemelo sapere nei commenti è stato un piacere passare un po del mio tempo con voi e io e panasonic vi diamo come sempre appuntamento al prossimo video